I ammessi no, e ma su un solito, ad inizio a me Brava Monica! Ma dov'eri? Ti aspettavo! No, ma dove sono i coach del Team Blue, non lei, sai, lei è un talento Ma meno male! Ma dove siete? Antimo, va bene così? Ma effettivamente? Ma effettivamente va bene, ma per loro no Abbiamo scelto di non essere appunto sulla linea del beige team Io sono felicissima perché io non sono un coach di canto Però ripeto, quando una persona mi fa venire la pelle d'oca, mi dà delle emozioni Le orecchie mi funzionano bene e quindi, cioè Grazie Perfetto, grazie Monica!